L'Italia non è molto ricca di miniere, l'Italia è ricchissima in materiale da costruzione fregiato, quel materiale di costruzione fregiato che si chiama Maradine. Quella vecchia miniera era della Monte Catini, una grandissima impresa industriale di un l'Italia italiana che oggi fusa con la Edison si chiama Monte Edison e che provvede assieme ad altre aziende analoghe alla grande industria di carattere chimico. L'industria di carattere chimico produce una quantità di materiali nuovissimi che si espandono non solo sul territorio italiano ma si diffondono come mostra questa cartina in tutto il mondo.